Bella ragazzi, qui Palaz e questo è il mio primo video per me la godo army Incominciamo col presentarmi, io sono Palaz, il mio cognome Sono italiano, non sono straniero Ho 17 anni, sono su youtube da più di un anno, penso, più di qualcosa Più di un anno e qualcosa E registro le mie partite, i miei gameplay con la Vermedia Game Capture HD E gioco con le Turtle Beach e anche registro la mia voce con S Sono qui su me la godo per proporvi una nuova serie Che spero non vi annoi, visto che di MV3 sono un po' stufo di fare gameplay Su MV2 Perché appunto l'ho detto prima che MV3 mi ha stufato alla grande Questa serie consiste in 7-8 episodi Sempre se mi viene concesso ovviamente Che giocherò in battaglia terrestre, che può capitare o deathmatch a squadra Ovviamente due di meno O dominio Dove io le giocherò ogni partita con un inter... Eh sì Con un cecchino diverso La prima partita che ho fatto Appunto è questa che state vedendo E' su Agraiz e ho usato l'Intervention Che è la mia arma preferita in assoluto in qualsiasi Call of Duty Insieme al Barret In questa partita stavo usando come perk Perk sono i bonus Gioco di prestigio Potere d'arresto E commando però se non sbaglio E come serie di uccisioni Il Red Arrier Che è Remosha Vabbè Red Arrier Il Pevlo E il supporto Perché tentavo di fare la carica nucleare Raga, vi spiego una cosa In queste partite Non è sempre detto che io faccio punteggi Da 40 kill, una morte O 60 uccisioni 10 morti Perché comunque col cecchino O stai giocando contro dei nabboni Che sono dei babbi Che fanno quello che vogliono Oppure comunque sono partite medie Da 20-25 kill 10 morti In questa partita è un deathmatch a squadra Non è durato molto Ho fatto un 13-6 Poteva andare meglio Ma vabbè È pieno di deathmatch a sta partita È una cosa mostosa Ragazzi allora Vi voglio spiegare perché su Mv2 Mv3 Come vi ho già detto prima Come vi ho anticipato Mi ha stufato Per varie cose Che non sto a cuore a dirvi Se non uscirebbe un gameplay di 40 minuti Mi so spostato su Mv2 Perché comunque Secondo me è superiore E insieme a Code 4 Sono i due migliori Call of Duty Che ci sono Secondo me In più Su Mv2 C'è l'Intervention Che è proprio Scusate Dalla merda All'MSR Anche se comunque È un'ottima arma Poi comunque Mv2 Come luci Suoni È superiore Non dico che Mv3 Su questo fattore Faccia cagare Per carità Però io ritengo Anche se Poi le mappe I pacchetti mappe C'è A ground Che cos'è Erosion Dai cioè ragazzi Veramente L'hanno fatto solamente Per intrattenere Perché secondo me Hanno visto che Sempre più persone Se ne andavano E allora Te Buttiamo due pacchetti mappe Così Via Tanto qui c'è C'è Poi C'è comunque Su Mv3 I fucile a pompa C'è Se io voglio usare Il fucile a pompa Fucile a pompa È un'arma secondaria Io non è che Posso uccidere Ad esempio Come in Mv3 Che è un'arma primaria Non è che posso uccidere Uno dall'altra parte Del mondo O dall'altra parte La mappa Con lo spas Su Mv2 Almeno c'avevo anche L'arma primaria E da lontano Potevo prenderlo Purtroppo ragazzi Il gameplay Come prima partita Come primo video Non dura molto Quattro minuti cinquanta Siamo già a quattro e dieci Spero vi sia piaciuto Questo gameplay E se ovviamente vi è piaciuto Lasciate un like Che aiuta Non solo a me moralmente Ma anche me la godo Armi Commentate per sapere Se vi piacerebbe Che io faccia questa serie E sempre se mi viene concesso Da me la godo armi Iscrivetevi Al mio canale Se avete voglia Se avete voglia Di seguirmi Eccetera Ma soprattutto Iscrivetevi A me la godo armi Che ragazzi Dobbiamo far crescere Questa community Che sta sempre più Peggiorando Se si dice così Boh vabbè Con anche l'addio Di Verax Bene ragazzi Io vi saluto Un show da palaz